Ma quanto costa tenere accesa per un'ora una stufetta elettrica a casa? Salvate e condividete il video, MDB te lo spiega! Come tutti sappiamo, il costo dell'energia elettrica è salito drasticamente. A novembre 2022, il costo medio tenendo conto delle fasce orarie, è di circa 0.502 euro al kilowattora. Una stufetta come questa consuma 1500 wattora in un'ora di funzionamento, quindi 1.5 kilowattora. Tenendo conto del prezzo detto precedentemente, se moltiplichiamo 0.502 euro al kilowattora per 1.5 kilowattora, otteniamo 0.75 euro. Quindi tenendo accesa per un'ora una stufetta come quella che abbiamo visto prima, si consumano ben 75 centesimi di euro. Seguiteci e commentate se volete sapere altri costi per altri apparecchi elettronici. Ciao!